benvenuti ancora una volta a fallo tu l'ultima della stagione non c'ho voglia fallo tu l'ultima della stagione abbiamo chiesto al nostro grande amico best mematore di europa di europa che poi buongiorno ragazzi io sono bianco e che gli ai bianco matt e che gli ai usare gen come intercalare e oggi sono qua nel canale degli arcade boys per far la classifica delle top 5 passere nei videoclip dei rappers italiani ovviamente sarà una classifica basata sui miei gusti personali sapete che tutti hanno dei gusti personali per quanto riguarda le le passere quindi se non vi va bene disiscrivetevi dal canale lo dico perché non è nient'altro quindi bando alle ciance cominciamo subito con la quinta posizione alla quinta posizione c'è mami di sina featuring diem come potete vedere le passere sono di un tenore davvero incredibile sono di un livello ragguardevole però hanno preso solo la quinta posizione perché sono sarde e non è che io sia razzista nei confronti dei sardi ma purtroppo non riuscirei mai ad avere una fantasia erotica verso una ragazza sarda ve la immaginerei tutto il tempo mentre mi dice canetta da vendere non è a vetta alla quarta posizione si trova la passera all'interno del videoclip di bella a tutti ragazzi venuti in questo nuovo video no ho le cinque dita fa stramale all'interno di bella di ernia come potete vedere aspettate ecco cosa cosa devo dire ragazzi questa cosa era un po scontata però alla terza posizione c'è la passera all'interno del videoclip di lunapie di quentin 40 la cosa che mi fa impazzire di questa passera è il fatto che non sia il classico troione da videoclip è solo una bella ragazza e sta cosa mi fa impazzire e comunque non è alcol tranquilli è candeggini alla seconda posizione ci sono le passere all'interno del videoclip di pablo di russian per sfera e basta come potete vedere vediamo se lo vi è storita ma poi chi cazzo è sto qua dov'è nessuno? ecco qua no? eh non so usare sto qua si ecco ma li potevano farci vedere un po' più le figlie di questi due ecco qua cosa cosa dire prima di svelarvi però la prima posizione c'è da specificare una cosa la regina delle passere nei videoclip del rap italiano sarebbe la fishbowl non c'è niente da fare solo che far partecipare la fishbowl alla top 5 delle fighe italiane sarebbe stato come far partecipare l'ho lo alla top 5 dei ritardati nel mondo la prima classificata è nel videoclip di maria antonietta di pristis e la vincitrice è proprio pristis lo so che molti dicono che fa schifo io non so cosa farci l'amo mi taglierei un braccio pur di poterla solo accarezzare che bella figa che bella mia no bezzo dai ascoltate non dir cazzate è una guarda la figa è un puttanone no bezzo non è un puttanone dai c'ha il viso angeli con chi la ma smettila bezzo dai bezzo io l'amo l'ho fatto anche un meme speravo che mi mettesse like tipo speravo di abbozzare non mi ha caricato manco di strisce guarda che sguardo guarda che sguardo ecco vecchio questo qua sono io e questo qua è prister guardami bezzo è la rappresentazione artistica del nostro rapporto cazzo volevo ringraziare guarda bezzo non si preoccupa neanche di bezzo guarda con le patatine perchè lei sa di essere bella dentro capito quindi non si preoccupa di ste cose volevo ringraziare agli arcade boys per avermi dato questo questo piccolo spazio per mostrarvi la mia passione per la passera seguitemi su instagram usare gang come intercalare biancomat eeeh aveccene sigla e satira sto io mi dissocio non voglio centrarci nulla è ritardato eh comunque su pristis bah no raga noi sperando che il canale non venga chiuso dopo questo video guarda che non hai messo comacose che tu sai che al capelli corti corti a me piace piace però meno male grazie a dio anche perchè comacose comatosa cos'io quindi comatose dio quindi è lui io eh no no vabbè nel caso vabbè rivedere poi la vecchia reaction ragazzi vi salutiamo ci vediamo dopo quest'estate ciao 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 ciao